Benvenuti a tutti a questo mio nuovo video voglio parlare un po' di DINIT un po' più a freddo riguardante quello che è stato la conferenza di Lucca ma è quello che è in generale la discussione che faccio ma che si fa da ormai mesi a questa parte probabilmente sarà un video un po' ripetitivo però mi sento di farlo allora di per sé Dragon Ball è un annuncio bomba cioè Dragon Ball è un annuncio bomba di per sé non ci sarebbe nulla da dire il problema non è che non bisogna fare queste grandi serie queste serie battle queste grandi e propri artist il problema è che non puoi fare solo quello è quello il problema e lo è sempre stato solo quello io non sono non sono anti queste cose magari non ci vado dietro particolarmente ma non sono anti queste cose anche perché vi dico ragazzi Dragon Ball è più sacro l'acquisto di Dragon Ball è più sacrosanto di tutti perché Dragon Ball magari in streaming potrebbe non fare chissà che cosa per vari motivi uno per tutti tra cui per dire Dragon Ball è una serie che è stata ripetuta un miliardo di volte in tv poi per questa operazione non è stata fatto alcun tipo di almeno lato sottotitoli un adattamento fedele perché i sottotitoli seguono l'adattamento Mediaset e quindi un purista non è attratto da vedere questa serie in streaming perché quello che cerca magari gli verrà gli verrà dato quando potrebbe esserci la pubblicazione in un video quindi lato streaming forse potrebbe fare meno successo rispetto ad altri soprattutto nel breve perché secondo me nel lungo periodo Dragon Ball anche in streaming farà performerà perché Dragon Ball è tipo l'anime per eccellenza in Italia cioè se tu parli di animazione giapponese sicuramente nella maggior parte dei casi il primo nome che la prima cosa a cui penserà la massa è Dragon Ball quindi cioè già solo per questo Dragon Ball è un acquisto top sacrosanto che andava fatto tra virgolette cioè se tu sei un'azienda di anime Dragon Ball non puoi non pensarci di prenderlo prima o poi se ne hai la possibilità chiaramente poi uno magari vuole fare ma per tanti motivi non si fa e io direi un'altra cosa già solo per lo streaming ma Dragon Ball è ancora più sacrosanto per quanto riguarda un video perché Dragon Ball venderà un voto anche a Dinit cioè soprattutto se fai Blu-ray Dragon Ball gli fa lo sfacello a Dinit a livello di vendita cioè probabilmente potrebbe vendere anche più di Evangelion in un video che noi sappiamo essere una serie che in Italia zitto zitto vende parecchio rispetto a tutti gli altri Dragon Ball probabilmente farà ancora meglio quindi è la reazione del fandom a questo annuncio rispetto a tutti gli altri mi ha fatto capire ancora di più quanto siete degra siete solamente degli egoisti perché quando vi annuncia quando le conferenze erano solo un Bleach Hunter Hunter o Gintama Fairy Tail lì lì andava bene perché lì eravate interessati anche cioè lì che si faceva solo quello andava bene adesso che si fa solo questo che si fa solo Dragon Ball che non è una cosa non doppiata è già doppiata grazie al cazzo cioè è solo l'anime per eccellenza in Italia adesso non vi va più bene e ad alcuni che prima gli andava bene adesso si lamentano ah che bello no che bello cioè mi avete ancora una volta mostrato in faccia mostrato ancora una volta quanto siate egoisti perché Dragon Ball cari miei è molto più sacrosanto di tutto quello che avete accettato fino all'altro ieri da Dint quindi su questo non ci e questo è il fatto poi non vi interessa sacrosanto però oggettivamente parlando è un annuncio top punto il problema è che noi lo sapevamo già cioè sembra niente però lo sapevamo già quindi sapevamo praticamente quasi tutto quello annunciato in conferenza anche questo è stato un altro problema di quella conferenza appunto perché non c'è stata una vera e propria sorpresa la sorpresa è stata prima però non era la stessa cosa cioè veramente e secondo me è davvero un peccato detto questo però sarebbe stata comunque tra le peggiori conferenze che io abbia mai visto di Dint perché ripeto c'è solo quello cioè per quanto Dragon Ball è importante però a tutti gli altri non dai mai non stai dando qualcosa da diversi anni da vedere da vedere qualcosa di nuovo ragazzi non è che poi uno non può sempre dire sì cioè siamo appassionati non siamo azionisti per dire perché io per dire di per sé sarei un aziendalista fradico però non fino a questo punto quindi non fino a questo punto cioè sono aziendalista di solito sono abbastanza razionale abbastanza cinico ma tutto c'è un limite e Dint in questo ultimo anno ma anche di Amato ma Dint in particolare non riesco più ad essere l'aziendalista che sono sempre stato e che sempre sono perché alla fine è chiaro che bisogna poi guardare i conti bisogna guardare certe cose però non esiste con quello cioè e soprattutto non mi potete neanche venire a raccontare che Prime Video non possa essere interessata a tantissime cose perché cioè va bene che Dint dice una cosa ma io per capire se qualcuno vi sta dicendo la verità o no vi invito anche a guardare i fatti perché Dint la parola dice eh ma Amazon non è interessata a questo o quell'altro potrebbe non essere interessata a questo o quell'altro ma visto che noi sappiamo che ormai possiamo portare a pensare che tutto quello che fa Dint sia anche per merito di Amazon nella stessa conferenza che Dint ci fa le grandi perle come Dragon ma come tanti altri patoscione ci fa la roba di Gundam scusatemi la roba che potrebbe ottenere numeri medi alti no Gundam si già solo questo a me porta a non credere tanto le parole di Dint ma va anche in tutto il resto della conferenza è stato tutto un de-responsabilizzarsi in una maniera incredibile per carità è chiaro che non è per un editore locale in questa situazione non è facilissimo non è facilissimo agire su questo non ci piove però Dint in particolare non si assume mai neanche la responsabilità è sempre colpa degli altri anche la risposta che non dato per quanto riguarda le serie Crunchyroll boh secondo me lì non hanno semplicemente voluto dire che per il momento non hanno pensato ad altre serie non che non fossero disponibili i diritti del doppiaggio per fare un video sinceramente poi può anche essere ma ci credo poco sinceramente perché appunto scusatemi Jusutsu Kaisensi e il resto no non ci credo non ci credo non riesco proprio a crederci e boh il discorso è questo siete egoisti perché finché vi andava bene finché vi annunciava quello che volevate voi finché vi annunciavano solo quello che volevate voi andava bene appena vi annunciano Dragon Ball che ci sta che non vi interessi è lì no è lì è lì e di colpo non vi va più bene la stessa identico modo di agire che di attuare da boh due tre anni almeno quando vi annunciano Gintama siete contenti perché non era mai stato doppiato quanto vi annunciano Dragon Ball la stessa identica operazione per quanto ok non era era già il piatto grazie al cazzo no lì di colpo non vi va bene nonostante Dragon Ball sia un attimino più importante di Gintama ma giusto un attimino giusto un attimino più importante di Fairy Tail giusto un attimino più importante di Bleach giusto un tantino più importante di Hunter Hunter io sono a me Hunter Hunter è piaciuto da matti quindi però oggettivamente anch'io se dovessi dire qual è un investimento più sicuro Dragon Ball Dragon Ball perché è un culto in Italia perché Dragon Ball è conosciuto da chiunque Hunter Hunter ma come la quasi totalità di tutti gli altri anime no solo Lupin potrebbe competere però Lupin già vende sicuramente probabilmente di meno rispetto a Dragon Ball cioè Dragon Ball soprattutto se Dini ti fai Blu-ray potrebbe fare lo sfacello probabilmente ma vabbè vedremo detto questo iscrivetevi al canale dite un po' cosa ne pensate continuiamo un po' la discussione che stiamo facendo da giorni che continueremo probabilmente a fare perché giustamente gli annunci di Luca non sono mai un evento che finisce nella giornata in cui sono fatti vanno sempre avanti per un po' di tempo insomma continuiamo la discussione i commenti ci vediamo al prossimo video